Workout, paradiddle, mano sinistra, mano destra, volume basso, dinamica molto bassa, alternata tra la gamba e il pad e si fermerà anche la mano destra. Sono tre esercizi, tutti e tre esercizi, ciascuno, quattro battute, ognuno. Paradiddle a 100 bpm in sedicesimi, pronti? 5 minuti, sarebbe meglio studiarlo una buona mezz'oretta, ok? Pronti? E 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3, mano destra sulla gamba, 4. 1, 2, 3. Ora andremo a fermare la mano destra. 1, 2, 3. Stop! 1, 2, 3. 1, 2. Colpiamo sempre al centro il pad. Respiriamo rilassati. 3, mano destra sulla gamba. 4, 4, 1, 2, 3. Mano destra, stop! 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2, 3. Destra, 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Mano destra, stop! 1, 2, 3. 1, 2, e... Destra! 2, 3. 1, 2, 3. Come vedete la mano destra, 3, sussurra, sulla gamba, via, 1, 2, respirate sempre rialzati, 3, in mano destra sto, 1, 2, 3, destra via. 1, 2, 3, mano destra sulla gamba, via, 1, 2, 3, Mano destra sto, 1, 2, 3, destra via. 1, 2, 3, e così via, mano destra sulla gamba. Esercizio secondo me molto utile per migliorare la mano sinistra, la sua fluidità, lo sticking, il controllo della bacchetta e la dinamica. Ciao, buono studio.